Ciao Alberto, è di tutti i tuoi fanno, guarda quanti siete! Tu non è un po' e un senso in questo modo di spiegare, prima di essere schiuma sarebbe invamabile oltre, perché tutti i tuoi donne, come erano tutti insieme, tutte si accende, io scegliete, io scegliete! E' un senso in questo modo!